A Sclepios 3 è già operativo, abbiamo i malati dentro, ci tengo a sottolineare che è un percorso perché noi oggi raccontiamo quello che abbiamo fatto per aprire un nuovo ospedale. Sono 200 posti letto e quindi come è facile intuire è un percorso di avvicinamento verso la definizione completa. Comunque tutta la parte legata all'ospitalità dei pazienti, tutta la parte ambulatoriale è totalmente disponibile e adesso via via la abiteremo. Il progetto è un progetto impegnativo, un progetto complesso che ha garantito a questo policlinico la possibilità di avere un padiglione ad altissima tecnologia e che soprattutto per gli anni a venire tutti noi ci aspettiamo dal policlinico, l'alta specializzazione in alcune discipline che oggi oggettivamente trovano una collocazione ideale.